Ben trovati, amici del Centrometrio Italiano. Finale di giugno infuocato su buona parte dell'Europa centro-occidentale e sull'Italia, dove si sono battuti diversi record per quello che riguarda il caldo. La Francia è stata una delle zone più colpite da questo caldo eccezionale, con ben 13 stazioni che in un solo giorno hanno battuto il precedente primato nazionale assoluto. Mai aveva fatto così caldo il Tralpe dal 2003, quando si erano raggiunti 44,1 gradi. Il nuovo record ora appartiene ad una stazione nei pressi di Montpellier, dove venerdì 28 giugno si è saliti fino a 45,9 gradi. Anche in Italia sono caduti diversi record mensili per quello che riguarda giugno, soprattutto al centro-nord. Da Torino a Udine a Firenze e a Roma sono state riscritte le nuove temperature più alte mai registrate a giugno, con valori anche prossimi a 40 gradi. Per sapere cosa accadrà nei prossimi giorni, se ci sarà ancora caldo oppure temporali, vi invitiamo a seguire come sempre sia il nostro sito che il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometto Italiano.